Prego, allora io sono Walter Ferrari, ho aderito a questo comitato per la fusione dei comuni perché io sono un agente di commercio, lavoro tutti i giorni a contatto nel privato, perciò a contatto con le aziende, sempre di più sto vedendo che le aziende, il tessuto industriale si sta impoverendo in questo paese e ci saranno sempre di più difficoltà dal punto di vista lavorativo. Questo se lo leggiamo dal punto di vista privatistico sono grosse difficoltà, se lo leggiamo dal punto di vista dei comuni sarà sicuramente un impoverimento delle entrate, pertanto i prossimi anni sarà sempre più difficile per i comuni fare bilanci, il che significa che sarà sempre più difficile sostenere i servizi come sono stati sostenuti in queste zone in maniera discreta, se non eccellente rispetto al resto d'Italia per i prossimi anni. Una delle poche, credo, strade percorribili per il mantenimento per noi e per le prossime generazioni di servizi alla persona, servizi alle imprese e il miglioramento anche se possibile con il mantenimento dei presidi ospedalieri, la creazione di una scuola superiore in questa vallata per fermare la migrazione studentesca. Credo che possa essere l'abbattimento per quanto possibile dei costi di struttura e ribaltare le risorse ai servizi alla persona in generale. Questo secondo me è una delle motivazioni dominanti per cui noi abbiamo abbracciato il ragionamento di essere a favore per la fusione, per il mantenimento dei servizi in questa vallata a noi e alle future generazioni.